Torna al successo l'Amen Scuola Basket a Rezzo nella prima uscita nel rinnovato Palasport Estra Mario D'Agata ha riconsegnato alla città e alla SBA. Polisportiva Galli battuta 74-56, confermandosi così nelle parti alte della classifica alle spalle della capolista da Bronica Livorno. Gli Amaranto sono senza biezze e balzimini e recuperano in estremis l'influenzato Spillantini. La Polisportiva si presenta ad Arezzo senza Galli. Fin dalle prime battute della partita la SBA prende il comando delle operazioni riuscendo a allungare nel punteggio con Cutigny e Gionmetti a far valere la propria superiorità dentro l'aria pitturata. Nel secondo quarto però la Polisportiva recupera ritornando sotto nel punteggio grazie a una difesa più aggressiva che recupera Palloni arrivando all'intervallo sotto 32-30. A rientro dagli spogliatori l'Amen appare più determinata tornando a coinvolgere nel gioco i propri lunghi. Il divario tra le due squadre comincia a dilatarsi anche perché dall'altra parte i valdarnesi non trovano dalla lunga distanza i canestri che potevano tenerli in partita. Alla mezz'ora gli Amaranto sono a più 11-55-44 poi allungano ulteriormente arrivando fino al 76-54 finale che premia la squadra di Pacini. Cutini è autore di 26 punti e capace anche di catturare 16 rimbalzi. Tutta la squadra risultata determinata nel voler portare a casa un successo che va al di là dei due punti. Iniziare con una vittoria davanti al numerosissimo pubblico del Palasport Estra dà sicuramente un'ultima rispinta in vista dei prossimi impegni. Sabato pomeriggio l'Amen Sba sarà impegnata sul campo della Fides Montevarchi guidata in panchina da coach Ottaviani. Terminata la partita una vittoria, una vittoria però della Sba sul ritorno qui al Palacaselle in forma veramente stupenda, in forma splendida. Mauro Castelli tanta soddisfazione. Era una vittoria che doveva esserci, doveva esserci l'avevo detto tempo fa ragazzi, poi magari mai passata, i ragazzi nei primi due quarti forse se ne erano dimenticati. Poi c'è stata questa rimonta. Hai avuto paura? Io meno, loro un po' di più forse. Detto questo però c'è stato un riscatto dei ragazzi e questo era per ripagare non solo la società ma più che altro per ripagare tutte queste persone che mai erano state, forse neanche quando eravamo in Serie B così numerose. Quindi per questo pubblico dovevano vincere e vincere anche bene. Ti posso garantire che mi è piaciuta più la partita di Livorno che questa. Però ovviamente non nascondo la soddisfazione per la vittoria. Il derby è sempre un derby. Adesso comincia il lavoro serio per questo palazzetto, per la nostra società. C'era progettare tante cose e adesso bisogna un attimo rilassarci perché siamo tutti stanchi morti per aver fatto questa rimessa lucido oltre al comune. Anche noi insomma abbiamo messo del nostro. Quindi ora c'è da rimboccarsi le maniche e cominciare a costruire qualcosa di grande.